Il lavoro artistico di Mauro Carbonetta presenta senza dubbio una notevole qualità espressiva, grazie alla sua scelta di utilizzare il carbone come mezzo artistico per creare un nudo artistico intrigante. Le forme del corpo femminile sono abilmente delineate con una profondità e una plasticità che catturano l'attenzione dell'osservatore. Mauro Carbonetta dimostra maestria nella resa dei dettagli anatomici contribuendo a creare un ritratto realistico e raffinato. L'uso di colori accesi è una caratteristica distintiva dell'approccio onirico dell'artista, aggiunge sicuramente un tocco di vivacità e contrasto alla composizione. L'atteggiamento rilassato e sereno della modella è notevole poiché trasmette un senso di tranquillità e armonia, invitando lo spettatore ad immergersi nel mondo delle forme e delle emozioni rappresentate. La comunicazione tra l'artista e la modella sembra efficacemente tradursi nell'opera, creando un legame tangibile tra il soggetto e il creatore. Complessivamente, il nudo d'arte di Mauro Carbonetta è una rappresentazione tecnica e visiva impressionante. La sua capacità di combinare il carbone con accenti cromatici accesi evidenzia la sua creatività e abilità artistica. La sua rappresentazione della modella e l'atmosfera rilassata che trasmette sono elementi che catturano l'osservatore e lo invitano a esplorare il lavoro con curiosità e contemplazione. Il titolo del quadro è Culla di serenità, olio e carbone su carta, 70% di Mauro Carbonetta.